39enne di Cittadella, minacciato con un'asta di ferro da un vicentino di 45 anni, la vittima si trovava a transitare al volante della sua auto in località Anconetta, Vicenza, quando per motivi ancora da chiarire è stato assalito dallo sconosciuto con l'amminacciato di morte brandendo l'attrezzo. L'aggressore si è poi dileguato e ha raggiunto il vicino comando provinciale dei carabinieri per chiedere aiuto. Gli uomini dell'arma sono usciti in perlustrazione, ma sentendo anche l'avversione del residente dell'alta padovana, qualcosa puzzava. E infatti dalla perquisizione nelle due auto, nel veicolo del vicentino è stata trovata l'asta di ferro usata poco prima contro il cittadellese. A casa, oltre a due pistole legalmente ritenute, anche un caricatore e 20 cartucce calibro 6,5 per fucile mai denunciate. Tutto sequestrato, il 45enne vicentino denunciato per minaccia aggravata e retenzione illegale di munizionamento.